Il sogno di una nuova vita nelle storie dei migranti del campo di Moria sull'isola di Lesboa incontrarsi un ragazzino appena arrivato e un volontario che fece lo stesso viaggio 18 anni fa e l'inviata Maria Gianniti. Daoud e Ali seduti su un muretto guardano il campo di Moria, hanno in comune la fuga dall'Afghanistan e lo hanno scoperto a Lesbo, ultimo lembo d'Europa nel mare Geo. Ali ha 14 anni, ha affrontato il viaggio da solo, lo stesso che Daoud ha fatto 18 anni fa prima di arrivare in Italia, dove ora è rifugiato. Io per arrivare in Europa ho attraversato l'Iran, Turchia, Grecia e finalmente sono arrivato in Italia a piedi, camminando per tanti giorni e notte, sotto il camion, dentro il camion, in gommone, attraversando il mare Geo. C'era tanta paura, c'era tanta paura, ma c'era anche tanta speranza, c'è che un giorno ce la faremo. Daoud è a Lesbo come volontario della comunità di Sant'Egidio. È riuscito a costruirsi una vita in Italia, la stessa che a Lissonia. Durante il viaggio ho sofferto molto, spiega. Avevo così tanta paura che non riuscivo a dormire. Ora spero di lasciare quest'isola. Vorrei studiare, diventare ingegnere e aiutare i migranti come me. E Daoud è l'esempio. Tocca a lui spiegare come si realizzano i sogni. I miei consigli sono di non mollare. Queste sofferenze supereranno un giorno. Di andare avanti, di finire i suoi studi, finché diventerà un uomo utile. Dobbiamo anche lavorare noi, dobbiamo integrarci, dobbiamo imparare la lingua. Dobbiamo soprattutto metterci in contatto con le persone, cioè con gli europei.